Cerchio Ifior Ho visto uomini che aiutavano altri uomini nel nome della libertà, e anche questi li ho sentiti i miei fratelli. Ho sentito poi un uomo che non aveva nomi per Dio, un uomo che diceva di non credere alla sua esistenza, un uomo che si teneva lontano da qualunque religione, un uomo che, parlando con gli altri uomini delle sue idee, si definiva ateo, convinto. L'ho visto asciugare la lacrima di un bimbo che piangeva, e ho sentito me stesso.